questa è la fermata dell'autobus da te che livello arrivano a sinistra posti liberi a destra doppia fila sono le 8 da un giovedì siamo su via l'alentino guardate questa quest'altra persona che sta facendo manovra per parcheggiare in divieto dentro la fermata dell'autobus sui marciapiedi doppia fila e posti liberi un centimetro dopo sul resto di via l'alentino tutto libero a destra e a sinistra a 15 metri dal delirio della sosta abusiva posti liberi dappertutto sul lato opposto via l'alentino direzione piramide stessa cosa guardate i posti a 14 metri dal delirio della sosta per la sosta indiscriminazione per la sosta a 16 metri passivi a 14 metri passivi all'alentino per la sesta